Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Mare si segnala un chilometro di coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. In A1, in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Per la viabilità cittadina a Firenze e per lo scarico di un macchinario, fino al 12 giugno, chiuso il controviale di Viale Matteotti tra i numeri civici 4 e 8. Da oggi modifiche all'offerta dei treni regionali e intercity tra Bologna e Prato, con l'avvio dei cantieri estivi per il potenziamento della linea da parte del gestore dell'infrastruttura. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!